e benvenuti ragazzi qui la vostra bananita che vi parla e oggi ragazzi andremo a completare delle sono appena uscite le missioni della settimana 10 e vorrei andarla a completare allora cerca forzeri all'autorità ok 7 forzeri e ragazzi andiamo all'autorità per questa partita ok ragazzi non dimentichate di lasciare like e iscrivvi attivare la campanellina per non perdervi altri fantastici video allora da cercare 7 forzieri dove li posso cercare all'autorità che genio che sono oh mio dio ok l'abbiamo ucciso so che c'ha che ci ha rubato la cassa peccato qua non si fa niente perché non si caricano le text salta banana oddio ragazzi oddio ragazzi oddio ok ce l'abbiamo fatta eravamo in una brutta situa ma per fortuna la bananita ce l'ha fatta che c'è solo che non ha aperto ancora una cassa è quello il problema ecco la prima cassa ok ok ecco la seconda ok ecco la seconda ok 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 ucciso ecco la seconda ok ragazzi andiamo ok abbiamo fatto la missione è vero ragazzi non ho preso una tessera oh mamma mia oh mamma mia ok 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 adesso ragazzi apriremo tutte le casse non so se riusciremo a fare la missione però noi ci proviamo sì ragazzi l'abbiamo fatta giusto giusto bene però non so se riusciremo a fare la missione Ok. Ragazzi, vorrei provare a pusharlo. Sì! Mamma mia! Siamo stati davvero bravi qua. Mamma mia ragazzi, che rischio! Allora, non so se lascio ridurre scudo. No, no, così, no. Beh dai, non è andata male. Ah no, ma, raga, è vero, mi devo fare gli scudoni. Così poi rimane solo uno scudone, no raga, mi prendo gli scildini. No! Ok. Non c'è nessuno. Scusate ragazzi, se non ho parlato. Non posso buildare. Vai! Sì! Grande, raga! Peccato che ci manca uno scudone, però... Per il resto, vabbè... Oh mio dio... Oh, raga, non mi è agita. Ah, ok. Aspetta, vediamo se ci sono le tanniche di slurp. No, mannaggia. Oh mio dio, ci sono le tanniche di slurp. Oh mio dio, ci sono le tanniche di slurp. Non ci dovrebbe essere nessun altro all'autorità. Credo di no. Non mi sembra di vedere nessuno. Ok. Quanto l'urt che c'è nell'autorità. No! Ragazzi, voi scrivete se vi piace di più questo rampino o quello di Sky. Questo qua è più per scappare. Quello di Sky era un po' più per pushare. E' più lui. Ok. Ce la siamo arrischiata, devo dire. Però lì ce l'aveva tutte le cure, quindi... Nessun problema per ora. Ok. Raga, guardate quanti colpi c'ho. Per fortuna che l'avevo visto prima, sennò... Forse mi poteva killare. Oddio. Vai! Vai! Ragazzi, non escapare. Andiamoci. Oh, che fortuna. Oh, che fortuna. Guardate quanti mazzi che ho. Non è che ho tutta sta vita, eh. La fight. Prova a buttarli giù. Credo che siano scesi. Ragazzi, i cavoli sono davvero forti comunque. Ok. 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 C'è un XP da qui, da qualche parte. Ok. Sì, non è vero Questo qui era un tryhard Vabbè ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto